Il percorso delle Mura del Carmine, Palazzo della Marra Barletta, ha ospitato la mostra con tutti i progetti che hanno partecipato al concorso Periferie 2017 nell'ambito dell'avviso pubblico emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si tratta di progetti volti al recupero e alla messa in sicurezza dell'area che riguarda proprio le antiche Mura del Carmine, con i relativi interventi e le scelte per il restauro. Il servizio di Marilena Pastore In realtà è un esito di un lavoro avviato un anno e mezzo fa. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, gli architetti insieme al Ministero, quindi la Direzione Generale, hanno promosso questa iniziativa creando una manifestazione di interesse agli enti locali, quindi ai comuni, a livello nazionale, per aderire a questa possibilità. Quindi un concorso di idee che potesse valorizzare delle aree dismesse, periferiche, seppur centrali. Quindi il Comune di Barletta, un anno e mezzo fa, in non quell'occasione, il caso voluto fosse anche assessore all'urbanistica, ha colto questa opportunità e proposi al Ministero e al Consiglio Nazionale dell'Ordine l'area delle cosiddette Mura del Carmine, quindi quelle che vanno dal Paraticchio alla Piazza Marina, un'area messa a bando su cui poi si sono confrontati i 27 gruppi di progettisti a livello nazionale e internazionale e di questi abbiamo oggi qui un buon saggio in esposizione. Il vincitore è un gruppo di architetti giovanissimi, il cui capogruppo è l'architetto Vincenzo Salierno. Gli altri componenti sono Massimiliano Cafagna, l'architetto Maria Rosaria Bruno e l'architetto Maria Cristina Aniello, quindi tutti architetti. È un progetto molto semplice che prevede la possibilità di collegare la parte sopra le mura con la parte sotto le mura attraverso degli elementi che richiamano un po' la tipologia delle passerelle storiche che si utilizzavano per accedere al mare. Questo è un elemento che è stato, come possiamo vedere anche dagli altri progetti, preso in considerazione da diversi progettisti perché il tema è proprio quello di superare questo dislivello attraverso la possibilità di avere sia delle scalinate, sia gradonate e altri tipi di strutture che possano consentire questo. Il concorso di progettazione è proprio questo, è un confronto dove dal confronto nascono idee sicuramente di qualità perché dalla qualità della progettazione, dalla buona progettazione passa alla qualità della vita e quindi progetti di buona qualità portano alla costruzione di identità culturali e quindi se parliamo di bellezze dei luoghi, questo del concorso di progettazione è sicuramente l'unico strumento indispensabile. Oggi parliamo di periferie, per anni abbiamo parlato di centri storici dove si è dibattuto tanto sul tema dei centri storici arrivando alla consapevolezza di quel bene comune dove tanto abbiamo investito. Oggi invece il confronto è passato sulle periferie, su luoghi, contesti e territori che spesso vengono identificati come territori di margine, di degrado sociale e che oggi ci si trova invece a dibattere per recuperare queste periferie come asse identitario anche con il centro storico.